Buon mio figlio di cagliasca! 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 Aspetta, diciamo un po' che... Ah, ma abbiamo cambiato un po' che... Ah, ma abbiamo cambiato un po' che... Basta, dove stai andando? Basta, un po' che... Ah, ma non è a toccare! Chi su può essere o no? Regolo, no? Non è... Un'isola... Questa è femmina... E' il bambino, il bambino... Ma chi su può essere o no? Che ne c'è di due? Chi su? Sì o no? Aspetta! Io dico di sì perché si mangia in vita! Quindi può essere? Può essere! Basta, dove stai andando! Aspetta, aspetta, aspetta! Qua? Aspetta, chi sto? Basta, non tocchiamo oltre! Non tocchiamo... Solo le mani! Eh, c'ho un po' freddo però! Ah! Ma pure il lupo! Ah! Ah! E' freddo! Strabbando! Può essere o no questo? Può essere o no? Sì o no? Quello che hai toccato prima può essere o no? No, no! E' freddo! E' freddo! Sì! Sì! Questo è mio marito! Sei sicura? Sì! 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 Toccicciatigna! Allora se stai sicura! Tu! Io daresti un bacio così a occhi chiusi! Nella guancia! Nella guancia! Ah! No, no! 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 io direi di andare avanti, scusami io mi sfido di te non è voi appena capisci che il tuo marito no, questa è femmina femmina ti piace? ci stiamo in mano all'accarabone ma chi stava in mano rosso? in mano rosso ma chi stava in mano rosso?